Il sombergibile Cusco Il silenzio delle stelle attraverso Maria Teresa G. Guida Vengo per esortarvi alla riflessione sulla pochezza della conoscenza e della sensibilità umana e sull'imponenza invece dell'irragionevolezza della caparbietà e della superbia di coloro che stanno ai vertici di molti governi Due volte mi sono trasportato negli abissi del mare di Barents nel relitto ferito a morte che giace piegato su un fianco col suo carico di immobilità e silenzio Non si è trattato di una collisione ma di un incidente interno Gli occhi allucinati sugli orologi e le orecchie tese spasmodicamente nella vana speranza di captare qualche segnale di soccorso Li ho visti quei ragazzi raggomitolati su se stessi mentre le forze ed il respiro venivano loro meno Alcuni rassegnati, alcuni impazziti di paura e chi pregava, chi impregava e tutti ce l'avevano con i capi sospettando che per la loro alteriggia avrebbero respinto ogni offerta d'aiuto per dimostrare che la grande Russia sarebbe stata in grado di affrontare ogni suo problema L'ultimo marinaio che ho soccorso si chiamava Serghei, classe 1979 Piangeva e diceva che non avrebbe voluto essere in marina ma che tanti ragazzi che non studiano fino ad arrivare alla laurea sono costretti ad arruolarsi nell'esercito o in polizia Mi ha anche detto di avere la mamma e due sorelle più piccole mentre suo padre era morto in un incidente minerario nel Donesc L'ho consolato come ho potuto e infine l'ho accompagnato nel trapasso Malgrado tutto ciò che finora ho imparato e sperimentato ancora mi commuovo nel vedere un giovane abbandonare la vita ma solo perché conosco il doloroso disorientamento che lo attende per molto del vostro tempo e lo strazio della sua famiglia